Ben ritrovati a Muoversi Conoscendo, stimolo all'attività motoria e uno stile di vita sano grazie al comune di Udine, città sane. Oggi per la nostra pratica utilizzeremo una o due bottiglie d'acqua piene, va bene un litro, un litro e mezzo o anche mezzo litro, quello che avete a disposizione. Tutti gli esercizi che proporrò potranno essere fatti con questi carichi, potete variare a seconda di quanto vi sentite. Partiamo con la nostra bottiglia in mano tenuta agli estremi, le ginocchia leggermente piegate, i piedi paralleli, colonna lunga, collo disteso, inspirando, fletto i gomiti, porto la bottiglia alle spalle, espiro, distendo. Quindi inspiro, espiro, distendo. Inspiro, espiro, distendo. Inspiro, espiro, sguardo avanti, dentro l'aria, fuori l'aria. Se avete braccia forti potete utilizzare due bottiglie tenendone una per mano e quindi aumentare il carico di lavoro. Inspiro, espiro, distendo. Inspiro, espiro. Teniamo le braccia distese e proviamo a sollevare non oltre le spalle la nostra bottiglia o le nostre bottiglie. Fuori l'aria, dentro l'aria torno. Espiro, inspiro, torno. Fuori l'aria sollevo, dentro l'aria torno. Ancora una, fuori l'aria e dentro l'aria. Proseguiamo la nostra lezione sempre con una o due bottiglie in mano. Io per praticità farò vedere con una sola. Da qui fletto i gomiti che rimangono chiusi, non si aprono le pareti laterali e espirando, distendo le braccia. Bottiglia oltre il soffitto. Mi raccomando tenete sempre il gomito leggermente piegato. Fuori l'aria, dentro l'aria torno. Fuori l'aria, dentro l'aria torno. Espiro, inspiro, torno. Espiro, inspiro, torno. Espiro, inspiro, torno. Ora spingiamo il nostro peso verso il pavimento, quindi distendo e scendo. Fuori l'aria, piego le ginocchia, inspiro, torno a salire e torno a flettere i gomiti. Fuori l'aria e dentro l'aria torno. Leggero piegamento delle ginocchia che non devono superare la punta del piede ma solo essere indirezzate verso le dita. Quindi se guardo i miei piedi devo riuscire a vedere le dita oltre le ginocchia. E ancora fuori l'aria e dentro l'aria torno. Tengo la bottiglia per verticale o le bottiglie. Espiro, distendo il braccio, ruoto, inspiro, torno al centro. Fuori l'aria, distendo le braccia, piccola rotazione, espiro, inspiro, spalle basse, collo lungo, espiro, distendo. Inspiro, riporto la bottiglia verso di me, espiro, distendo e torno al centro. Ancora qualche proposta di lavoro insieme. Prendiamo le due bottiglie e andiamo a distendere le braccia, bottiglie lungo i fianchi. Arretro con una gamba, espirando mantengo le spalle in linea e faccio piegare il ginocchio perpendicolare al tallone. Inspiro, torno. Il ginocchio della gamba dietro non occorre che tocchi il pavimento ma lo piego leggermente, braccia distese, dentro l'aria torno. Fuori l'aria, piego, ginocchio cade perpendicolare al tallone, dentro l'aria torno. Espiro, inspiro. Ancora una. Fuori l'aria, ginocchio perpendicolare al tallone, dentro l'aria torno. Quindi arretro con l'altra gamba, mantengo sempre le braccia distese, spalle in linea, fuori l'aria, spiro, scendo, dentro l'aria torno. Guardo un punto alla parete avanti a me, espiro, inspiro, torno. Fuori l'aria e dentro l'aria. Ognuno si può regolare su quanto scendere col ginocchio in base a come vi sentite sicuri, a quanto i muscoli fanno male. Fuori l'aria, dentro l'aria e ancora espiro, scendo, inspiro. Una o due bottiglie tenute tra le mani, piego leggermente le ginocchia mantenendo i piedi paralleli, sguardo avanti, fuori l'aria, piccola rotazione dall'ombelico in su della colonna. Il bacino rimane fermo, fuori l'aria, ruoto, dentro l'aria torno. Espiro, inspiro, espiro, inspiro e ancora. Fuori l'aria, dentro l'aria. Tutto è possibile svolgerlo con una bottiglia sola. Io sono Sara Ferrarese, vi ringrazio per questa pratica insieme. Tutto lo trovate sul portale chespettacolo.info.